la risposta del portiere non si è scomposto vediamo cosa inventa ora Palo, attenzione, non è finita risultato che non cambia, legni i protagonisti su questa conclusione è tutto solo prova il pallonetto Palo, ma il pallone torna in campo, pericolo eh sì, c'è il tocco, c'è l'autogol occhio al corner hanno il pallone che può valere la parità, attenzione e la messa, gesto tecnico spettacolare conclusione al volo, perfetta pallone interessante palla ancora in gioco Succedimento interessante che bravo il portiere qui potrebbe crossare Sancho sicuro, qui il portiere Locatelli possono abbassare il vantaggio miracolo del portiere che sventa il tiro va bene e c'è il gol del vantaggio e buona parte del merito anche all'allenatore che ha azzeccato la sostituzione a rischi Gomez alla buona per Mertens vantaggio che comincia a farsi importante due gol da recuperare una per gli avversari rifinge il primo tiro interrompe bene l'azione intercettando il lancio non ci ha pensato due volte l'arbitro ha indicato il dischetto è il rigore e la partita potrebbe riaprirsi un penalty perfetto siamo assistendo a un match davvero emozionante risultato di Mbappé tiene palla a Mbappé Gomez e la messa risultato adesso sul 4-2 Apu Gomez a spaccio per andare portiere grande protagonista con un intervento che salva può ricevere una posizione interessante servito a Cugna c'è il segnale di chiusura per punti importanti davanti al proprio pubblico e il segnale di chiusura può fare ma chi